ciao a tutti oggi prepareremo il gelato veloce alle fragole il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa gli ingredienti sono fragole congelate a pezzetti panna congelata a cubetti e zucchero diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le fragole ed azionare il bimbi per 20 secondi da velocità 6 a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la panna ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 7 spadolando il gelato è pronto mettere in delle coppette e servire gelato veloce alle fragole grazie e alla prossima ricetta a